I cavalli della quinta corsa ritornano agli ordini dello starter dopo un primo approccio annullato, premio Montepulciano, anziani di categoria G non corre al capone, su bicode di no c'è Schettino mezzo meccanico che prende velocità Buferaz, nettamente la più sollecita, la rottura di bicode di no Assisi cerca di convergere in seconda posizione ma c'è l'inserimento di Zagorsan, poi U2 degli Ulivi anche in questa corsa, sagra di rotture 14.8 i duecenti iniziali, Assisi insiste su Buferaz ed ottiene il via libera con un parziale però notevole primo quarto completato in 28.9 da parte di Assisi che precede Buferaz, Zagorsan e U2 degli Ulivi in quinta posizione Baltic Mabel FM ed in sesta c'è Buon Pane con Ubaldo Capar, 43.8 i 600 numero 14 parziale non di questa categoria squalificati 4, 9, 10 e 14 giro di pista in 59 e mezzo Assisi ha fatto selezione Buferaz lo segue poi Zagorsan e U2 degli Ulivi che precedono Baltic Mabel FM tutti in posizione da sparo il primo a muovere è U2 che subisce l'anticipo di Zagorsan poi Zagorsan torna al suo posto e U2 può aggirarlo Zagorsan in fila Buferaz di dentro che era venuta molto larga nel frattempo U2 degli Ulivi l'iscaval che si lancia all'inseguimento di Assisi U2 degli Ulivi, quello dei giorni migliori con Peppe Ruocco in salchi U2 degli Ulivi passa in netto vantaggio e dopo i due successi di ieri Svezia di Giosef Tavela arriva quello anche di Papa Giuseppe in salchi a U2 degli Ulivi per la gioia di tutto il team Starace al secondo Zagorsan precede Assisi che bello proprio oggi che non si gioca arrivano tutti i cavalli due minuti e sette decimi media di 1.14 e 8 1.14 e 7 per il ritrovato 2 degli Ulivi il figlio di le Jack Dolbeck e dell'indimenticata Castelbajac